Martedì Roger Federer è stato in Italia, più precisamente a Osnago, lc, per girare una serie di spot per Barilla, la nota casa di produzione di pasta, a cui il campione svizzero si è legato nel maggio scorso. Gli spot sono stati girati presso una blindatissima villa a rese Lucini, di mora nobiliare di fine 500 immersa nel verde e della Brianza. Uno spiegamento di forze imponente, un centinaio di persone a circondare sia Federer che lo chef Davide Uldani, altro protagonista degli spot.